Pesaro deve essere anche capitale di intercultura, accoglienza e fraternità. Questo uno degli obiettivi del Banchetto dei Popoli, promosso su iniziativa dell'Arcivescovo Sandro Salvucci, per sabato 27 luglio in Piazza del Popolo. Nell'Episcopio del Duomo di Pesaro, la stessa diocesi con i suoi uffici migranti ha presentato quello che sarà un momento di condivisione organizzato assieme a Caritas e a una pluralità di associazioni quali Movimento nei Focolari, Rinnovamento nello Spirito Santo, Refugees Welcome, Festa dei Popoli e le comunità nigeriana, peruviana e cingalese presenti a Pesaro. Un momento di fraternità con testimonianze, con un momento anche di preghiera interreligiosa, un banchetto fisico dove si mangerà insieme e anche una festa dove i popoli diversi che vivono sul nostro territorio, che noi chiamiamo stranieri ma che ormai sono italiani perché c'è gente che abita qui da 20 anni e anche di più, possano conoscersi un po' di più, integrarsi, accogliersi e soprattutto valorizzare il patrimonio culturale, religioso, folcloristico e anche culinario che ognuna di queste identità porta con sé. Quindi un momento di sogno, di fraternità, mentre stiamo attraversando invece momenti drammatici di scontri, di guerre, di divisioni, di violenze, perché noi vogliamo sognare con tante persone di buona volontà un mondo più fraterno.